Tre diciassettenni ed un sedicenne sono tutti minorenni responsabili dell'incendio applicato al parco pubblico di Pianiga, dando alle fiamme alcuni libri contenuti in un box di metallo, di fatto una piccola biblioteca al servizio della comunità. Quella sera solo il provvidenziale intervento dei carabinieri con l'estintore dell'auto di servizio aveva evitato il propagarsi del rogo ed il rischio che vi fossero feriti. Le dagini seguite a quel 14 gennaio hanno portato i carabinieri della tenenza di Dolo a denunciare alla procura dei minori di Venezia i quattro ragazzi, tutti della zona. Sono quattro ragazzi che purtroppo non capivano la gravità di quanto stavano realizzando. Ora si sono resi conto di aver commesso un errore importante e sono venuti anche a ricevimento da me per chiedere scuse e per dirsi pronti a ripagare la collettività per il danno che hanno fatto. Le indagini delle forze dell'ordine si sono svolti anche attraverso la visione di tutti i sistemi di videosorveglianza dell'area e tramite controlli incrociati sugli spostamenti dei ragazzi che venivano man mano individuati. Insieme ai servizi sociali stiamo attivando un progetto che li vedrà coinvolti per ripagare la collettività affinché possano davvero rendersi conto dello sbaglio commesso e possono sicuramente in futuro non commetterlo più. Anche a Pianiga, peraltro, i carabinieri organizzano incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole e farli riflettere su temi come il cyberbullismo, la violenza di genere, il rischio legato al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti.